Vettrine decorate con cuori e fiori, lunghe code in fioreria, ristoranti affollati. Come si vive a Vicenza la ricorrenza di San Valentino? Di certo non passa inosservata. In centro si capisce subito che non è un giorno qualunque. Quanto ai fiori vanno ovviamente le classiche rose, ma anche molti tulipani, dalle forme diverse e dai colori più disparati. Fiori meno associati alla festa degli innamorati rispetto alle rose, ma più economici e più di stagione come fioritura. Sì, casa però. Con qualche regalo, fiori, cosa fa il suo marito di solito? Compra i fiori? Ecco sì, i fiori, l'unica, l'unica sono i fiori. Certo, questa sera festeggeremo San Valentino. Regali? Regali, regali, speriamo che arrivino belli. Anche lei farà un regalo? Certo, certo. Già preso? Un cioccolatino, già preso. Molto diffusa anche a Vicenza la scelta della cena fuori casa. Cucina nostrana o etnica, in coppia oppure con uomini e donne separati, o ancora con tante coppie di amici per festeggiare in compagnia. Andrò con mia moglie in un ristorante questa sera. Un po' di pesce. Avete già organizzato? Lo fate tutti gli anni? Sì. Sì, vado con degli amici. È giusto quindi festeggiare San Valentino? Eh, a tutte le età bisogna festeggiare. Non ho niente in programma, sarà tutto improvvisato. Regali? Regali sì, però ecco, non li dico. Come? Mi ha appena regalato una collana, quindi... Perché è la mia migliore amica, quindi... E lei festeggerà? Sì, con l'amica e single, questa sera a cena cinese. L'ha organizzato? Esatto. I fidanzati dove li mandate? Sono troppi, sono troppi, quindi niente. Si concretizza spesso in solo queste cose, no, di consumo e basta. Però, insomma, l'affetto nei confronti del proprio compagno o compagna, insomma, non ha bisogno di una data, insomma. Si estrinseca in molti altri atteggiamenti durante la vita, no?